Qualche consiglio per organizzare una mostra personale di pittura. Ciao a tutti e ben ritrovati. Spero che stiate bene, spero che siate felicemente impegnati con qualcosa di artistico. Io oggi sono qua non per proporvi un tutorial di pittura o di disegno, ma per parlare di mostre, organizzazioni di mostre. Ho pensato di fare questo video perché, prima di tutto, in questo periodo sto lavorando alle opere per la mia prossima personale. Ma anche perché dopo che ho pubblicato qualche settimana fa un video dedicato alle quotazioni e al valore di un'opera, ho visto che c'è tanto interesse anche dal punto di vista del marketing dell'arte. E a questo punto ho pensato che un video simile magari poteva tornare utile. Prima di iniziare però metto assolutamente le mani avanti perché non è il mio settore. Cioè, sì, è il mio settore, nel senso che sono un pittore e ho fatto tante mostre. Però ecco, non sono un curatore, non sono direttore di galleria, non sono direttore di museo, sono un pittore e parlo per l'esperienza che ho avuto io in tanti anni di lavoro. Io ho iniziato come artista di strada, dipingendo le mie opere nelle vie dello shopping di Cagliari e vendendole così su strada, fino a esporre in musei e biennali di settore. Quindi diciamo che le ho passate un pochino tutte, quindi conosco tutte le tappe. Ma soprattutto all'inizio non avevo la più palida idea di come muovermi, di come organizzarmi, e quindi ho organizzato mie mostre un po' dappertutto, soprattutto in spazi sbagliati, almeno all'inizio. Quindi oggi sono qua per proporre qualche consiglio a chi dipinge e vorrebbe proporre il suo lavoro sul mercato. Ripeto, lo faccio da profano. E anzi, sarà interessante magari sviluppare nei commenti un confronto, un dialogo con chi è del settore. Prima cosa, dovete avere le opere. Sembra una stupidaggine, ma non è così. Ogni mostra è un progetto, è un po' come un libro. Ogni opera è un capitolo e il libro è la mostra, cioè una narrazione all'interno della quale ci sono tanti elementi diversi. Le opere. Si tratta di quello che l'artista vuole raccontare al pubblico, vuole condividere con chi visita la sua mostra, con chi guarda le sue opere. Quindi prima di tutto è importante che in un'esposizione personale tutte le opere siano collegate da un argomento comune, o affrontino comunque una tematica che in qualche modo le lega. E per proporle al vostro pubblico avete due strade. O prima fate tutte le opere o avete tutte le opere e poi cercate uno spazio adatto, o altrimenti, se avete già uno spazio disponibile, se vi hanno invitato a esporre da qualche parte e sapete come è fatto questo spazio, potete progettare le opere appositamente per quello spazio. A me è capitato di lavorare in tutti e due i modi. In certi casi ho sviluppato prima dei progetti e poi ho cercato uno spazio in cui esporli e proporli al pubblico. In altre occasioni invece mi hanno invitato a esporre in spazi particolari che ho dovuto studiare per valutare un progetto che andasse bene per quello spazio. Chiaramente se l'invito arriva oggi, la mostra magari la si fa fra sei mesi, logicamente, non domani. In entrambi i casi, poi, io personalmente, ma ripeto, non è una regola, seguo anche un altro principio. E cioè cerco di proporre al pubblico opere, anche se collegate tra loro, dallo stesso argomento, comunque differenti. Per esempio, propongo sempre un quadro particolarmente grande, importante, con tanti dettagli, tanto lavoro, che diventa un po' il cavallo di battaglia della mostra. Quindi magari è quello che viene usato per la copertina del catalogo, per la pubblicità e così via. Poi magari c'è qualche quadro di dimensione medio-grande, qualcun altro di dimensione medio-piccola. A volte faccio dei quadri in coppia, quindi li penso insieme e li affianco poi nella mostra. In certi casi mi piace dedicare all'interno dell'esposizione un angolino in cui far vedere anche gli studi, le bozze, il lavoro che c'è dietro l'opera finita. A prescindere, comunque, sempre, ogni quadro è accompagnato dalle etichette, dalle targhette e poi il catalogo abbinato alla mostra. Mi raccomando, scegliete gli spazi con cura. Lo spazio poi è importante non solo per la sua conformazione interna, quindi si ha delle belle pareti per l'esposizione, ma è importante anche per la sua destinazione d'uso. La scorsa volta nel video delle quotazioni mi è capitato di dire, così a passante, sporre nei bar non conviene. Ecco, lo ribadisco qua, io non ho nulla contro i bar, non ho nulla contro i ristoranti, però sicuramente non sono spazi adatti alle mostre. E questo lo dico per esperienza perché io ho esposto sia in bar che in ristoranti quando stavo iniziando la mia carriera. Il primo motivo è che quando cominciate a crescere un po' con le quotazioni, vendere un quadro a qualche migliaio di euro all'interno di un bar, a persone che stanno andando lì a spendere un paio di euro per un caffè, è chiaro che è un po' controproducente. Ma soprattutto, anche se lì a prendere il caffè ci va un collezionista, il fatto di presentare un lavoro all'interno di un bar chiaramente già vi classifica come artisti che sono tagliati fuori dai circuiti ufficiali delle esposizioni, o quantomeno dai circuiti dedicati all'arte. Quindi in qualche modo vi autocategorizzate come artisti che espongono nei bar. Sicuramente l'esposizione nei bar e nei ristoranti conviene ai gestori dei locali o ai proprietari dei locali. Pensateci un po', magari capita a un bar, un ristorante che organizza ogni due settimane una mossa diversa dicendo che vuole proporre gli artisti. Quel gestore si ritrova ogni due settimane con un arredo diverso, ma soprattutto si trova con due inaugurazioni di mostre ogni due settimane. Il che vuol dire che l'artista porterà tutti i suoi clienti, se già ne ha, tutti i suoi amici, tutti i suoi parenti e tutti quanti consumeranno all'interno del bar. Quanti poi saranno quelli che acquistano? Abbastanza pochi. Io non dico che questo venga fatto con malizia, anzi, io ho conosciuto moltissimi gestori di locali in cui ho esposto all'inizio, come vi raccontavo, ed erano persone veramente appassionate d'arte, che avevano davvero il piacere di ospitare delle mostre di giovani artisti o meno giovani. Però ecco, poi alla fine, tirando le somme, effettivamente quello che rimane è la sintesi di prima. In quei bar, a volte, mi trovavo a offrire più di quello che guadagnavo, anche perché viene il cliente e cosa fai? Non gli offri il caffè, un bicchiere di vino, viene qualcuno a trovarti, non offri qualcosa da bere, e alla fine vai a spendere più di quello che guadagni vendendo i quadri. Per fortuna, è una parentesi che è durata abbastanza poco. Però ecco, ho dovuto sbatterci la faccia per capirlo, come si suol dire. Quando cercate, quindi, uno spazio espositivo, è importante che sia uno spazio quantomeno dedicato alla cultura. L'ideale sarebbe uno spazio dedicato proprio all'arte. Una galleria, ma nelle gallerie serie, quando si inizia, non ci si arriva. Un museo, magari dedicato all'arte, anche se piccolo. O, in base a quello che fate, anche altri musei, non per forza musei d'arte. Per esempio, siete degli appassionati di storia antica, non lo so, e fate tanti quadri di rovine romane, sto improvvisando. A quel punto, esporre i vostri lavori in un museo archeologico può anche avere senso. Oppure siete grandi appassionati di animali, vi piace dipingere e disegnare gli animali, a quel punto un museo zoologico va più che bene. La cosa importante è trovare proprio lo spazio adatto al vostro progetto. E quindi trovare uno spazio che possa valorizzare il vostro lavoro. Quando avete trovato lo spazio giusto, prendetevi cura delle vostre opere. Una cosa poi che ho imparato e che secondo me è davvero molto importante quando organizzate in autonomia le mostre, è soprattutto credere nel lavoro che state proponendo, investirci, anche economicamente se serve. Quindi presentare con cura il vostro lavoro, magari con delle cornici, magari con delle targhette sotto ogni quadro. Realizzare un catalogo. Il catalogo è utilissimo sia perché presenta davvero in maniera molto più seria tutto il vostro lavoro e diventa davvero una narrazione. Ma anche perché magari può permettervi di avere un guadagno collaterale. Se prevedete già che la vostra mostra sarà molto visitata, avrà tanti visitatori, presumibilmente fra tanti visitatori pochi acquisteranno delle opere. Ma parecchi potrebbero acquistare un catalogo. E in certi casi può diventare anche un aspetto economico importante quando parliamo di mostre davvero tanto visitate. In certi casi potrebbe anche essere utile fare delle riproduzioni delle opere originali. Quindi fare delle stampe certificate con stampa fine art di alta qualità che voi proponete chiaramente a un prezzo più basso rispetto agli originali. E questo vi permette di arrivare a un pubblico completamente differente. Quindi c'è chi può acquistare un quadro che costa qualche migliaio di euro, c'è chi può acquistare solo una stampa che costa magari qualche centinaio di euro e poi c'è chi acquista un catalogo che costa qualche decina di euro. L'altro investimento che può sembrare banale ma a mio avviso non lo è potrebbe essere quello di un curatore. Cioè una persona esterna che di mestiere cura mostre, esposizioni. Cioè sa come proporre il vostro progetto al pubblico. Qualcuno potrebbe dire, vabbè l'ho fatto io il progetto, non so come proporlo. E in certi casi sì. Perché effettivamente chi realizza il progetto spesso se ne innamora anche. Quando mi è capitato di collaborare con qualche curatore è capitato magari che volessi assolutamente esporre un quadro a cui ero affezionato, di cui ero innamorato, che in realtà non c'entrava granché con tutto il resto ma stavo cercando di infilarlo perché mi piaceva. E giustamente chi curava l'esposizione mi ha fatto notare che non c'entrava assolutamente nulla. Un bel quadro, sì, ma a sé stante, fuori dal progetto. E quindi alla fine non l'ho esposto. Il curatore è quello che ha uno sguardo oggettivo sul vostro lavoro. Il vostro sguardo sul vostro lavoro è per forza soggettivo. Quindi il curatore è quello che da fuori vede magari con un po' più di ordine e quindi sa anche ridisporre meglio tutto quello che voi volete proporre al pubblico. Ultima cosa, una cosa che a me piace tanto fare quando organizzo le mostre è fare un'anteprima a porte chiuse il giorno prima dell'inaugurazione. Il giorno dell'inaugurazione è sempre molto caotico. Nelle ultime mostre in cui ho esposto soprattutto le personali davvero tanto caotico con tante persone che vengono a trovarti tante persone con cui fa piacere fermarsi a chiacchierare alla fine si diventa un po' una trottola in quelle condizioni e non si ha nemmeno il tempo di fermarsi a fare due chiacchiere più approfondite con persone che possono essere davvero appassionate quindi collezionisti, clienti, eccetera. Quindi ormai già da qualche mostra faccio sempre un'anteprima a porte chiuse cioè su invito. In certi casi spedisco proprio gli inviti tramite posta ai clienti, ai collezionisti a chi mi segue da tanto tempo e anche agli amici, ai parenti che mi fa piacere incontrare in un contesto un po' più rilassato diciamo una specie di inaugurazione ma con 30, 40 persone non con 400, 500 persone. E quella è l'occasione perfetta per spiegare magari ai collezionisti agli appassionati come è nata un'opera il senso di tutto il progetto, il senso di tutta l'esposizione e sono delle situazioni davvero molto molto piacevoli anche perché almeno io personalmente vivo quel momento come il momento in cui ho finito di lavorare nel senso che il lavoro vero, quello più impegnativo è fare i quadri, realizzare i quadri nel momento in cui i quadri sono appesi e si aprono le porte per l'anteprima o per l'inaugurazione a quel punto veramente ci si rilassa, si chiacchiera, ci si gode la serata almeno io le ho sempre vissute così infine ultimissimo consiglio, anche questo per la mia esperienza indirizzato soprattutto ai giovanissimi qualcuno aveva scritto nello scorso video quello delle quotazioni ne approfitto per rivolgermi soprattutto a loro se come è naturale all'inizio non potete pagare uno studio di comunicazione che faccia una campagna marketing sulla vostra mostra cercate di sviluppare voi stessi una comunicazione che vada un po' fuori dai social cioè la promozione sui social va sempre benissimo però anche avere qualche contatto con le redazioni dei giornali locali può essere molto utile inviare per esempio un comunicato stampa con le immagini delle vostre opere migliori il luogo in cui esporrete, la data, gli orari, i dettagli della mostra inviare tutto questo alle redazioni dei giornali locali non vi costa nulla se siete fortunati qualcuno pubblica qualcosa ed è tutta pubblicità in più per voi io per oggi mi fermo qua in realtà ci sarebbe un'infinità di roba da dire su questo argomento ed è un argomento che a me diverte tanto proprio perché l'ho vissuto in prima persona in tutte le varie fasi chissà, magari ci sarà qualche altra occasione ma spero fino a questo punto comunque di esservi stato utile vi auguro tante bellissime esposizioni piene di successo alla prossima, ciao!